Torna anche quest'anno il mese della prevenzione con le attività organizzate a ottobre dalla sezione di Torino della Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori. Tra le iniziative presentate a Palazzo Lascaris spicca la campagna di prevenzione del tumore al seno, Nastro Rosa. Per tutto il mese di ottobre i 395 centri e ambulatori della Lilt, presenti in Italia, saranno a disposizione per fornire visite senologiche e informazioni sulla prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia.